Musica Avanti il prossimo aspirante presentatore, grazie! Buonasera, mi chiamo Gustavo. Ma non mi sorridi all'altro? Bene, ci faccio un esempio. Lei come si esporrebbe al pubblico? Ok, allora io farei così. Signore e signori, buonasera e benvenuti a questa bellissima serata. Scusi, puoi ripetere? Ok, signori e signore, buonasera e benvenuti a questa bellissima serata. Mmmmm, rifaccia ancora la sua presentazione, per favore. Un'altra volta? Non capisco, c'è qualcosa che non va, ditelo. Signori e signore, buonasera e benvenuti a questa bellissima serata. Mmmmm, scusi ma ha forse qualcosa nascosto nelle mutande? Tesoro, vieni qui a controllare. Vado io? Joyce, per favore, mi contieni tu. Vabbè, dai, andiamo avanti. Ci dica qualcosa di lei. Qualcosa di me? Allora, vediamo. Sono vegano, sono vegano, mi piace la verdura. Mmmmm, sì, sì, lo so io che verdura le piace a lei. Lo sa che lei è una persona disgustosa? Non puoi dirlo. Perché? Perché per dire che sono disgustoso, devi prima assaggiarmi. Mmmmm, vado io? Affiammi di due. Siamo qui per giudicare. Appunto, io giudicavo se era disgustoso, no? Falla finita. Beh, allora come sto mandato? Mmmmm, ciccio, va a casa che meglio, dai. Avanti il prossimo. Tu e tu. Sì, 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 sì.